Oggi per esempio sono uscite delle nuove dichiarazioni che hanno del clamoroso, addirittura si parla anche di un coinvolgimento dell'Inter in Calciopoli, questa Calciopoli non finisce mai praticamente. Ma se si chiama Calciopoli, se lei sente come sento io, quelli che adesso fanno gli allenatori, i direttori sportivi che giocavano 40 anni fa al calcio, quelli che hanno 60 anni, allora che non c'era la televisione, le partite, gli arbitri le taroccavano e si vendevano, si compravano peggio di adesso, con la televisione a un certo momento si è trovato un po' di rimedio con la mobiola, con altre cose, con la televisione e i giornalisti che a un certo momento fanno vedere determinate cose, però prima era peggio, è nella natura dell'uomo e allora bisogna avere delle istituzioni che funzionino bene e che proibiscono che le partite vengano tarocate. Noi purtroppo il male di questo paese è che le nostre istituzioni non funzionano da nessuna parte.